Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buongiorno carissimi amici, ben trovati. Buon lunedì. Iniziamo questa settimana pregando il Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Vorrei ricordare il Vangelo di Sabato, che si concludeva con questo importante insegnamento di Gesù. Cercate, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose, cioè le cose necessarie a livello materiale, vi saranno date in aggiunta. Questa frase è molto importante perché ci dice che dobbiamo mettere delle priorità, capire ciò che vale di più. E Gesù ci dà la sicurezza che quando ci occupiamo di ciò che vale di più, ciò che è meno importante, arriva da solo, arriva quasi in maniera provvidenziale, si può dire. Vi saranno date in aggiunta queste cose dal Padre, proprio in maniera provvidenziale. Cioè, voi pensate a Lui e Lui penserà a voi. Un po' è questo che intende. Noi ci mettiamo con il cuore rivolto a Lui, alle esigenze del regno di Dio, che sono le esigenze stesse di Gesù, che vuole il bene vero dell'uomo, dei fratelli. Ecco, se noi mettiamo come priorità questo, anche tutte le cose necessarie a livello pratico non ci mancheranno. Dio stesso si impegna a provvedere. E questa è fede. Questo richiede fede. Non si può fare in questo modo senza fede. Il Vangelo di oggi ci parla di non giudicare. E penso che sia collegato questo Vangelo a quello di sabato. Ascoltiamo dalla voce di Claudio. Il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli Non giudicate per non essere giudicati. Perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello Lascia che tolga la pagliuzza del tuo occhio mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Di fronte a questo comando di Gesù non giudicate motivato anche dal affinché anche voi non siate giudicati non è facile non è facile non giudicare lo sappiamo bene quando un fratello fa qualcosa che ci fa male ci fa stare male ci ferisce veramente facciamo fatica a non giudicarlo a fermarci solo sul fatto dell'azione che sappiamo riconoscerla come sbagliata e a non arrivare a dare un giudizio sulla persona penso che semplicemente sforzarsi per fare questo è uno sforzo sovrumano probabilmente bisogna agire in un altro modo ecco se noi cerchiamo prima di tutto il regno di Dio il regno di Dio è Gesù se noi cerchiamo prima di tutto di stare con Gesù cuore a cuore con Lui Egli ci porterà il suo modo di guardare le cose, le persone e Lui come guarda le persone? Le guarda con lo sguardo di chi vuole il bene vuole salvarle vuole il bene diciamo eterno belle persone ecco forse stiamo con Gesù un po' magari l'oretta della messa magari quel po' che preghiamo insieme il rosario ma poi quando abbiamo finito la nostra preghiera e andiamo a trattare le cose del mondo le cose diciamo quelle reali quelle concrete lasciamo da parte Gesù e ci arrangiamo da soli e così perdiamo lo sguardo sulle cose sulle persone lo sguardo di Gesù ma se noi non abbiamo il suo sguardo lo sguardo ripeto che vuole salvare le persone inevitabilmente le giudicheremo perché in quel momento il nostro interesse non sarà il regno di Dio ma sarà un altro interesse magari molto concreto ma non il regno di Dio ecco quando il nostro interesse principale non è il regno di Dio certamente giudicheremo ci scontreremo faremo discussioni interminabili e saremo difficilmente corregibili ecco ecco penso che il Vangelo di Sabato sia proprio la chiave per aiutarci ad entrare nella sospensione del giudizio anzi il giudizio venne rimesso al padre solo Dio può giudicare perché vede nell'interno vede le intenzioni a noi come Gesù è dato di collaborare per salvare le persone per tirarle fuori da quella da quel virus in cui tante volte cadiamo anche noi e che vorrebbe ammalar ammalarci del male quello interno il vero male ecco allora chiediamo con questa preghiera veramente l'incontro con il cuore di Gesù quanto desidera incontrarci con il nostro cuore è come un mendicante ma il suo bisogno di incontrarci incontrarci è proprio è proprio lo specchio del nostro bisogno di incontrarlo ne abbiamo veramente bisogno assoluto bisogno viene Gesù riempimi di te ti dono il mio cuore riempilo del tuo amore donami tutto te e con te donami le tue virtù amami Gesù fa che io ti ami con il tuo amore grazie Gesù grazie che io sono qui sono qui perché tu sei buono soltanto perché tu sei buono viene da me che io vengo da te e siamo una cosa sola amore e misericordia e miseria una cosa sola il mondo ha bisogno di te amore e misericordia fa che io ti porti nel mondo intero ecco allora piuttosto che il giudizio portiamo misericordia così come noi godiamo della misericordia di Dio su di noi portiamola ai nostri fratelli il Signore sia con voi per intercessione della mamma celeste vi benedica Dio Onipotente Padre Figlio e Spirito Santo allora grazie a tutti